salve a tutti ragazzi benvenuti in questo travel vlog siamo a borghetto e a sigurta quindi due posti fantastici sul lago di garda vicino a valleggio sul mincio provincia di verona questo blog sarà interamente girato con questo il redmi note 5 di xiaomi secondo me il miglior cellulare da 200 euro con una fotocamera superiore molto superiore ai 200 euro di questo telefono anche il telefono vale molto di più di 200 euro perché secondo me nella fascia media questo telefono è eccezionale e la sua fotocamera doppia vale molto molto di più di 200 euro infatti questo video sarà interamente girato con questo a parte ovviamente questo intro che non potevo girarlo quindi ragazzi adesso tutto quello che vedrete d'ora in poi sarà girato con questo Xiaomi Redmi Note 5 ciao 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 ovviamente usando la macchinina elettrica abbiamo messo sotto pressione la stabilizzazione della fotocamera dello Xiaomi Redmi Note 5 perché veramente la macchina traballava tantissimo anche perché questi vialetti non sono asfaltati sono tutti fatti di blocchetti è un pavè quindi la macchina traballa tantissimo quindi se le immagini sono un po mosse comunque non è colpa tutta del telefono ma è colpa anche perché veramente ci voleva un action cam più che un cellulare per fare ripreso con questa macchina no anche perché non è una macchina no anche perché non è una macchina ti sembra che sei nel seggio e non è una macchina guarda le ottenze guarda le ottenze guarda le ottenze quando i cani sono morti le cani femmine si mettono il testo un fiorellino si i quelli lo rompono e ne lo mettono il testo guarda le ottenze guarda le ottenze guarda le ottenze guarda le ottenze sono tutti qua noi noi mi chiede la不Baby зы perché ce lì troppa gente perché quel ruolo tipo non glielano andate cercchiato e la vecchia fastly Idaio il labirinto meno male c'è la mappa meno male entriamo nel labirinto Sara leggi la mappa che usciamo dal labirinto se non c'è l'uscita ma in questo labirinto c'è se non c'è qui l'uscita c'è qui ok vai tu davanti facci strada ok sei sicura ma di qua usciamo Sara sei sicura di dove ci stai portando Sara usciamo facci uscire Sara qui mamma ok vai qui e poi sempre arrivati alla ok Sara da che parte dobbiamo andare ma di qua è chiusa Sara di qua non usciremo mai dal labirinto quindi staremo dentro per sempre vai Sara brava ci hai portato fuori oi 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 ma non è vero Questo travel vlog con questo Xiaomi Redmi Note 5 è finito e devo dire che questo telefono ha una fotocamera veramente eccezionale, quindi ragazzi se non volete spendere tanto e avere un telefono per fare foto e video eccezionali, questo è il telefono che fa il caso vostro perché è un telefono completo in tutto, secondo me nei suoi 200 euro non ha difetti, cioè all'interno dei suoi 200 euro è un telefono che ha solo pregi, quindi ragazzi se questo video con questo fantastico telefono vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e ci vediamo ai prossimi video, ciao! 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 Grazie a tutti